Ciao Fisio, bentornati sul canale YouTube di FisioScience. In questo video approfondiremo insieme il Beering Sorensen Test, un test comunemente proposto in ambito clinico per la valutazione dell'endurance dei muscoli e rettori spinali. Il Beering Sorensen Test è un test ormai ampiamente noto nell'ambito della valutazione del low back pain specialmente nella popolazione giovane, sportiva o nella popolazione adulta attraverso il quale i fisioterapisti valutano l'endurance ovvero la resistenza dei muscoli e rettori spinali attraverso il mantenimento della posizione antigravitaria del tronco richiesta durante il test. Vediamo ora insieme come si esegue. Il primo step è quello di posizionare il paziente prono avendo cura che il bordo del lettino si trovi all'altezza delle SIAS. Successivamente il paziente dovrà appoggiare gli arti superiori su un supporto e in ultimo il fisioterapista dovrà stabilizzare le caviglie del nostro paziente, richiedere al paziente poi di lasciare il peso degli arti superiori e mantenere la posizione antigravitaria del tronco. Il fisioterapista chiaramente nel frattempo monitorerà il tempo trascorso attraverso un cronometro. Il test dovrà essere stoppato qualora il paziente non riesca a mantenere la posizione del tronco anche in assenza di sintomi o qualora si esacerbino sintomi che siano in grado di alterare la posizione mantenuta dal paziente o che impediscano al paziente stesso di proseguire l'esecuzione. Aspettate un secondo, ci siamo resi conto che l'80% di voi che guarda i nostri video non è iscritta al nostro canale. A voi non costa nulla ma per noi è davvero molto importante. Per questo motivo iscrivetevi al nostro canale e riprendiamo con il video. La durata media di mantenimento della posizione durante il test per gli uomini sani sembra essere di circa 146 secondi mentre per le donne la durata media sembra essere maggiore e di circa 189 secondi. Nei pazienti con low back pain invece le tempistiche sembrano ridursi e quasi dimezzarsi con una durata media di mantenimento della posizione pari a circa 80 secondi fino alla terza ripetizione del test. Nel corso del tempo, così come accade per qualunque test, la scienza si è interrogata su quale fosse il ruolo nella valutazione dei pazienti con problematiche lombari e ancora quale fosse il ruolo di questo test nei soggetti sani in termini di valutazione del rischio di sviluppare in futuro low back pain. A oggi purtroppo i risultati provenienti dagli studi primari condotti direttamente sui pazienti con low back pain e su soggetti sani sono del tutto discordanti e pertanto non sarà possibile trarre conclusioni definitive rispetto al fatto che gli esiti di questo test come una ridotta endurance degli erettori spinali, quindi una ridotta tempistica come tenuta durante il test, siano un fattore di rischio per sviluppare low back pain in futuro o che una ridotta endurance di chi soffre già di low back pain sia un fattore di rischio per la cronicizzazione dei sintomi. Oggi il Beerenstein Test viene utilizzato in ambito fisioterapico per valutare l'endurance degli erettori spinali e sulla base di ciò la scienza ci suggerisce essere utile per 1 valutare se il paziente può essere un buon candidato per una riabilitazione con sovraccarichi e in particolare qualora sia in grado di mantenere la posizione antigravitaria del tronco per più di un minuto come suggerito da un'interessante pubblicazione di Berglung e collaboratori nel 2015. 2 valutare se il paziente può essere un buon candidato per l'esercizio isometrico in termini di warm up e preparazione alla sessione vera e propria della riabilitazione in termini di risposta ipoalgesica. Ricordiamo infatti che l'esercizio isometrico potrebbe essere una delle valide scelte per indurre una riduzione del dolore nei pazienti con low back pain. 3 valutare la resistenza degli estensori del tronco del paziente a un follow up in termini di misura di outcome. Eccoci fisio quindi alla fine di questo video spero che sia stato utile per il vostro studio, per il vostro ripasso e per la vostra pratica clinica. Come sempre lasciate un mi piace, iscrivetevi al nostro canale e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!